Inizio, 2, 1, Inizio e Liftoff! Poi, magari sui siti di codici, piuttosto che con gli sconti, magari lo trovate a meno, però calcolate questo, da quello che ho visto, a 69 comprate Hitman 3, più inclusi Hitman 2 e 1, quindi vi potete giocare la campagna, dell'1, del 2, del 3, del parologo, più tutte le missioni secondarie, quindi i servizi di capitale, incarichi speciali, paziente a zero e le missioni bonus, oltre dovrebbe avere anche tutte le modalità online, quindi potete scaricarvi dei contratti anche creati dagli utenti, potete giocarlo anche in realtà virtuale se avete un visore, quindi vi vedete in prima persona i panni dell'agente 47, ma la modalità freelance è davvero intrigante. E' uno di quei giochi AAA che valgono il prezzo, calcolate 70 euro, avete 3 giochi, avete le missioni aggiuntive, la realtà virtuale, i contratti online e la modalità freelance. Freelance è una modalità roguelike, prende tutte le location di tutti e tre i giochi e ve la spiego, perché c'è un video che è anche parecchio lungo, vi spiega tutto. Noi iniziamo già dal rifugio e vi faccio vedere come funziona. Io sono già andato malissimo, adesso iniziamo. Inizieremo dal rifugio che è l'hub dell'agente 47, dove lui potrà mettere tutte le armi che lui recupera, gli oggetti che recupera dalle varie missioni in giro per il mondo, le deposita in quel rifugio e possono essere presi per la missione poi che si fa successivamente. Adesso io, vedete, non ho nulla, tuttavia all'interno di questa cassa voi trovate un oggetto a scelta tra tre che vengono sponati ogni volta che tornate al rifugio, che sia per una missione completata o una missione fallita, non conta. Qua vedete tutte le armi che potete prendere, dalle corpo a corpo, tutte le pistole. La mia pistola base l'ho persa, era questa qui la prima in basso a sinistra, l'ho persa perché sono stato ucciso in missione, ho voluto provare, l'ho persa. E quindi dovevo iniziare una nuova missione da zero. Altra cosa da sapere, tra l'altro qua dovrei avere qualcosa, perché ho aperto la cassa e ci ho trovato dentro una mina di prossimità ma non lo trovo. Eccola lì, è lì nella baggetta, la vedete lì che è piena, io tenendo premuto posso andare a sceglierla, equipaggiarla o rimetterla a posto. Vi faccio vedere all'inizio, adesso non completeremo una missione ma ci può stare magari per una live, posso annullare una campagna e interromperla. Allora nel momento in cui voi perdete una missione, perdete tutte le armi che avete con voi, ma non finisce lì, nel senso che perdete anche la metà dei soldi che avete accumulato e basta. Ma guardate qua in alto, vedete avete due missioni, in queste due missioni dovete uccidere qualcuno, recuperare informazioni. Una volta fatte queste due, la terza missione dovete uccidere il capo di quel progetto, insomma di quella corporazione lì, ce ne sono quattro in totale. Però tenete bene conto che questa missione è la più difficile e se fallite perdete tutta la campagna, è un roguelike veramente difficile questo, perché non avete possibilità di save, dovete fare tutto bene. Ovviamente questa è una modalità che fate se amate gli roguelike, oppure se amate i roguelike ma avete già finito la storia, che è tanto meglio se l'avete finita magari difficoltà difficile, in modo da essere già schillati sulle location. Ora vi faccio vedere all'inizio, adesso noi scegliamo, adesso mi pare che sia sempre abbastanza, vedete vi dà le location possibili di questa storia. Adesso io voglio prendere quelle in Italia, perché già la voglio giocare un po' patriotica. Vediamo quale è. Al fine non le giocheremo tutte, perché sono quattro, quindi sono otto in totale, quindi vedete qua non c'è l'Italia. Ok, eccola qui, giochiamo questa. Vedete che vi vengono dati tre location, noi iniziamo dall'Italia, Sapienza, due obiettivi da uccidere, per un altro prossimo volo. Ve lo faccio vedere perché, allora, beh prima di tutto avete anche, oltre a guadagnare i soldi, sulle mappe troverete anche i fornitori che vi venderanno merci, ma soprattutto più sarete professionali, più vi salirà a livello di professionalità, e sbloccherete a livelli tot di professionalità, da varie stanze, che poi, vabbè, alcune sono estetiche, altre come il poligono vi consentono di fare pratica con le armi. Adesso iniziamo l'avventura, prendiamo il biglietto aereo e ce ne andiamo. Ah, scusate, devo prendere l'arma però, che non mi ha dato, che ho perso, probabilmente, no, infatti, ho esettato la campagna, non ce l'ho più, vabbè, pazienza, inizieremo senza, vediamo se mi dà qualcosa d'ufficio, e viaggiamo. E andiamo a vedere anche chi dobbiamo uccidere, perché il bello di Hitman in generale, dell'ultima trilogia, è il fatto che nei contratti online è possibile configurare tutto, creare i propri contratti, creare le proprie personalità da uccidere, e quindi può essere interessante questo. E il livello è pieno zeppo di indizi che ci vengono dati dalle persone in base a quello di cui stiamo parlando, magari si parla di un evento, allora possiamo mascherarci, sappiamo già che cosa farà, e andando ad attivare quell'evento andrà a modificare le routine dei vari personaggi. Comunque siamo a Sapienza, l'organizzazione è attiva in quest'area, io la scorsa missione che ho fallito, era sempre qui, era un'altra campagna, dovevo uccidere una persona sola e sono partito di sotto, leggendo il giornale sulla panchina. Ora invece ci troviamo da tutt'altra parte. Ovviamente salendo di professionalità avremo modo anche di sbloccare nuove location e nuovi costumi iniziali, ecco questo da tenere in considerazione. Non abbiamo armi, abbiamo solo una telecamera. La telecamera, non mi ricordo cosa serve, ma permette a recuperare informazioni e guadagnare soldi. Infatti vedete, elimina i membri dell'organizzazione, compenso 250, tiratore perfetto 500, avvelena avversario 1.500, fai scivolare 1.500. Quindi abbiamo un modo di, se li uccidiamo entrambi in questi due modi, uno avvelenato, uno scivolato, prendiamo già 3.000, 3.500 con tiratore perfetto che non so cosa sia, e più 250. Le persone da uccidere sono una all'interno della villa, che però, vabbè, poi inizierete a studiare, sapete, io so già una mezza idea di come entrare, e l'altra, non so dove sia, potrebbe essere più semplice. No, sono tutte e due nella villa, quindi bene o male sono sempre lì, però, metti che cambia e vediamo. Adesso, siamo all'interno di questo posto che io non conosco. La cosa interessante è che è stata aggiunta anche la possibilità di suonare il campanello. Allora, non mi pare di ricordare ci fosse prima. Comunque, vediamo. Intanto esploriamo un po'. Ah no, non possiamo stare qui. Ok, chiedo scusa. Vabbè. Mi piace tantissimo questa location, perché è respirato ovviamente all'Italia, costiero. Scendiamo. Non so perché ci troviamo qui. Qua vediamo, ah, mi ha ripreso una telecamera di sorveglianza, qua è un avvocato. Ehm, no, se trovassi un piede di porco potrei anche pensare di entrare dall'avvocato, ma... Ah, ok, mi scusi. Ok, mi porta fuori. È già finita. Ma se io lo stendessi sto qui? Buon lavoro, figlio, continui così. Mi porta fuori. Ok. Io non so dove fossi, che edificio fosse, ma forse un ambasciato o qualcosa, vabbè. Comunque, siamo nella piazza dove qua c'è il negozio che vende gelati, insomma, e anche lì si aprono infinite possibilità. Tra l'altro, andando giù, verso la villa, questa è l'entrata della villa, qua dovrebbe esserci un aiuto cuoco che è il fratello di questa tizia. E quindi dovrei già sapere che entrando qui c'è la possibilità... Tra l'altro, vediamo un po' se... Una volta c'era il fornitore qui, ma non c'è più. Vedete che qua possiamo aprire la porta, ma non c'è il fornitore. Il fornitore era qui. Adesso il fornitore dovrebbe essere da un'altra parte, dovremmo scoprire dov'è... E di là. Ok, poco più avanti. È interessante perché il fornitore cambia sempre location e vende a dei prezzi impossibili, anche solo 5.000 crediti. Vi vende la monetina per distrare le persone, che è veramente fuori mercato come prezzo, però aumenta decisamente la difficoltà. Ora, io so che entrando qui, salendo qui... Ovviamente calcolate che non c'è il save, quindi non c'è modo di salvare. Io posso entrare qui. E travestimi da cuoco. Aiuto cuoco. Quindi abbiamo già una scusa, diciamo, per entrare in villa. In villa si entra da qui. E siamo già integrati. E possiamo iniziare a darci un'occhiata. Insomma, io poi non voglio presentarvi Hitman perché è già uscito da diversi anni. Mi scusi? E questa è la sorella del tipo? Sì, è vero? Ok, questa ci aveva visto, purtroppo. Scheda di accesso alla villa mi fa comodo. Trascino. E la nascondo qui dentro. E la sorella... Questo non mi era successo prima, però ho immediato una scheda della villa. Allora, quello che noi notiamo... Noi siamo aiuto cuoco. Lì c'è già un tizio. Però senza avere il silenziatore non possiamo andare a... Ogni zona ha i colleghi di questo tizio. Alcuni hanno il pallino sulla testa. E sono quelli sensibili al riconoscerci. Probabilmente il capo che conosce tutti i pendenti. Mentre gli altri magari possiamo stare inosservati. Allora, lì abbiamo il primo tizio da uccidere. Che è sempre comunque secondato da qualcuno. Quindi per atterrarli in altri posti si possono attivare i vari eventi. Cioè passando a fianco a qualcuno si dice Guarda, il capo ha chiesto un drink nel suo. Voi partecipate a quell'evento lì e ve lo attiva. E quindi in pratica potete preparare il cocktail avvelenato, portarlo voi stessi e poi andare a finire la storia. Allora, questo qui ha una sorta di guardia del corpo e questo è uno di quelli che dobbiamo uccidere. Che tra l'altro sembra essere neanche una personalità importante ma sembra essere un giardiniere o un meccanico. E' un giardiniere che sta parlando. Insomma qua c'è il garage, io non l'avevo visto questo garage. C'è un fornitore lì sotto che probabilmente è un infiltrato come noi che ci può vendere la roba e vi faccio vedere anche quello se riesco. Questa è una zona probabilmente off limits per noi. Infatti dice qualcuno che potrebbe riconoscerci, cioè potrebbe ci riconosce. Questo è un infiltrato e vi faccio vedere cosa vende. Non vende la monetina, vende un cecchino a 4200, che sarebbe comodissimo. E questi sono tutti oggetti che, vabbè, possiamo comprare. Però non abbiamo soldi. Lo trovo veramente figo come gioco, l'ho sempre trovato bello perché vi potete muovere, potete esplorare la zona, cercare di capire. Ho acceso il generatore. E' un po' power questo sistema qui per vedere dove sono le persone. Però, già il gioco è difficile di suo. Adesso vediamo se riusciamo a stordire questo tizio. Che probabilmente è un meccanico. Travestiti da guardie della villa. Recupero la pistola. Altra cosa importante. Se voi lasciate la mappa, potete andare via dalla mappa in qualsiasi momento. Tuttavia, se lasciate la mappa, magari decidete di portarvi via delle armi che vi serviranno a ricominciare la missione. La vostra presenza non passerà inosservata. Nel senso che quando rifarete un'altra missione, saranno tutti già in allerta. Quindi la giocherete a livello più difficile. Questa è una gran cosa. Allora, ora siamo cambiati. Vedete che non c'è più il pallino sopra la testa del tizio. Allora, infatti se andiamo qua dietro, il tizio qui non ci dice nulla. Siamo anche armati adesso. E possiamo muoverci liberamente qui a esplorare. Magari troviamo qualche cosa di sorveglianza. Perché ovviamente, se non lo sapete, io ve lo parlo comunque a vuota libera. Se venite ripresi da una telecamera, ovviamente dovete trovare la sala delle registrazioni e cancellarle. Allora, vediamo un attimo. Questo qua sembra essere un meccanico. Vediamo subito adesso se... Eh no, giardiniere, giardiniere, giardiniere. Giardiniere. Però non ha senso neanche sto dire giardiniere perché... Però qua sotto va in un punto un po' particolare. Che esce da qui sicuramente sarà chiuso questo perché... Immagino che, infatti... Potete trovare anche dei piedi di porco improvvisati, come dei tubi. Però è interessante perché vi apre un sacco di prospettive diverse. Allora, di qua si può uscire. E siamo davanti all'entrata. Una moneta! Vedete che abbiamo già iniziato a... Inizia già a andarci tutto un po' come... Ci vuole pazienza, insomma. Salta con la X. Scusate. E con una modalità del genere non potete permettervi di... Di andare in giro sparando, come magari molti di voi hanno fatto, è compreso nella campagna principale. Ora, il tipo lì era solo. Gli si potrebbe dare una spinta. Eh, però non sta guardando giù. Bisognerebbe fargli piazza pulita. Però lì c'è... Fai scivolare il bersaglio... Ehm... O avvelenalo. Allora, avvelenastro tizio è difficile. Però... C'è un mattone che io prendo. Ovviamente se scivolare qui magari non la racconta. Però... Come si fa a farlo scivolare? Prendendo questo, immagino. No, si apre l'acqua. Lui viene qui. Vediamo se... Vedete che sta... Oh, ma è il nostro amico qui? Ok, questo ce lo leviamo dalle scatole con un niente perché... Allora... Bitascino. Io spezzo il collo. E l'ho occulto qui dentro. Il primo è andato. Però... Non abbiamo ovviamente... Ehm... Rispettato quei requisiti lì. Lì c'è una guardia che puoi riconoscerci probabilmente. È un capo... Della... Della ronda. Uno dei due soltanto. Quindi... Qua forse c'è una telecamera, infatti. E tra l'altro non siamo neanche silenziati. Quindi... Questa ci ha visto. Voglio andare a vedere solo l'altro obiettivo. Giusto per darvi l'idea di... Questo ce lo riconosce. Voglio solo vedere se l'altro è... Se l'altro è lo stesso dell'altra volta. No. Perché nell'altra missione che ho fatto il tipo era qua che passeggiava. Era questo qui che dovevo uccidere. Questo che vedete con la... Cosa rossa. La camicia rossa. Era una guardia alla fine. Invece adesso devo uccidere un altro. Cioè il bello è che è sempre diverso. E l'obiettivo è sotto. Sotto non so dove. Infatti sotto lì magari si scende da qua. C'è il sentiero. Bellissimo sto posto. Però la guardia... Ah, eccolo lì. Ma è un altro operaio quello. Eh, mi manca la chiave magnetica. Dovrò capire come entrarci. Però ecco... Trovo sempre affascinante questo gioco per questo motivo. Il fatto di dover esplorare delle location molto belle sparse per il mondo. Da il classico hotel a tutto il resto. E trovare il modo di andare avanti. Questa modalità è assolutamente indovinata. Sia dal punto di vista dell'allungamento del gameplay. Nel senso che magari il gioco lo avete finito. E vi va di riprenderlo perché vi piacevano le meccaniche. Che questo gioco, questa modalità, dà veramente nuova linfa. Ho preso un piede di porco e una bombola di propano. Come la prende? Ah no, e questa è per stordire la gente. Mi hanno visto passare con una bombola di propano ma... Potrò mollarla. Ah sì, la butto lì. E c'è anche una storia dietro perché... Ma questa perde gas ma forse non esploda. No, quelli mi riconoscono. Via, 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 via. E la bombola ma la potrò giocare meglio, eh. Comunque, vediamo se col piede di porco riesco a riprire sta porta. No, perché chiede la chiave magnetica. Quindi il piede di porco non me ne faccio assolutamente nulla. Però vabbè, interessante. Ragazzi, io adesso non ha senso continuare così. Vi posso magari portare una live una volta. Fatemi sapere che cosa ne pensate di questa nuova modalità su Hitman. Ricordo, Hitman 3 vi regala anche l'1 e il 2. Quindi avete una campagna... Non è lunghissima, vi dico la verità. Perché addirittura l'Hitman 3 erano forse 5 missioni. Però nel complesso è un bel gioco longevo. Fatemi sapere cosa ne pensate e alla prossima. Ciao ciao!